Sindaco, il parco Cimino davanti al terminal bus, cosa si fa? La corsa e si subisce? Ci si allena e subiamo i gas di scarico? Sindaco, ci alleniamo e prendiamo i gas di scarico? Guardate come scappa, non risponde. Sindaco, le ho fatto una domanda, i cittadini vogliono sapere. No, vogliono sapere, si, parco Cimino, no no sei divertente tu, il parco Cimino, il comune, vai a lavorare, vai in consiglio comunale, presentati in consiglio comunale, presentati in consiglio comunale invece di essere assente, rispondi, non raccontare favole sullo stadio come hai raccontato, uno stadio inesistente, lo stadio nuovo inesistente, si permette di fare allusione alle mie attività imprenditoriali.